ciao ragazzi benvenuti in questo video vi faccio vedere le impostazioni di betfair importanti meno o poco che siano ma sicuramente molti non li conoscono per settare al meglio la piattaforma perché molti non li conoscono perché dai feedback che mi sono arrivati con domande come mai filippo le mie quote sono diverse dagli altri perché non vede certe quote perché il mio betfair non è uguale a quello dell'altro non effettivamente così il sito betfair è uguale per tutti solamente le impostazioni non sono state fatte correttamente ora entriamo nello specifico e vi faccio vedere che cosa intendo questo è ovviamente il sito betfair ho cliccato questo pulsante quindi impostazioni per aprire questo menu e qui il menu è composto da principali scommesse che shout interfaccia e altro nel primo menu quindi principale sono riportate queste voci ad esempio quote quote banca uno non le flagga e scompagliano le quote rosa che sono quelle ovviamente del banca profondità di mercato se non lo toglie praticamente va a non vedere adesso per farvelo vedere devo aprire una partita non vedere tutto vedete quindi si vedono solo le prime due di quote rosa e e e azzurre profitti e perdita ovviamente quando c'è qui il profitto quando puntate bancate non ve lo fa vedere quindi adesso non sono mancate ma quindi se lo flagga non cambia nulla includi scommesse definitivi definitivi nel menu qui a fianco a fianco ci sono comunque le scommesse che uno fa e vengono riportato meno mostra quello che guadagnato per data il netto delle commissioni in realtà è solo quello che guadagnato perché le commissioni betfair le prende sul guadagnato e mostra cifre eventuale allora poi si va nel menu un po più approfondito tipo nelle scommesse ad esempio queste sono le impostazioni che molti non settano ad esempio io ho trovato gente che aveva questa impostazione cioè come vedete guardate come è cambiato il sito ok cioè io sono andato a visualizza scommesse a un euro che sarebbero quelle i soldi riportati sotto le quote quindi la liquidità se io li sposto vedete questo 80 4 80 a un euro se io mi sposto sparisce perché va a prendere ad esempio 10 euro quindi come vedete 14 21 14 ma se mi sposto totalmente vado a vedere solo quello che posso acquistare la quota che possa acquistare con cifra alta in realtà ovviamente è questa perché queste compo sono di conseguenza e questa è questa quindi il mercato il barcellona che ha riportato quindi molte persone ci arrivano così e mi dicevano perché flippo molti molti hanno il sito diverso dal mio che era così con 80 e 100 in pareggio io vedo solo 1 e 0 1 e 0 1 è perché probabilmente questa voce tu non l'hai settata la frequenza aggiornamento è importantissima anche quella ovviamente per chi lo fa di professione sta lì non per chi piazza la giocatina e poi chiude perché perché praticamente cosa dice sì questo questo meno che ogni secondo in live ovviamente è più visibile vengono aggiornate le quote e i soldi se lo mettete qua sono ogni 15 secondi quindi ad esempio nel live quando uno fa scalping sull'under o cerca una quota un abbinamento è che questo la trova dopo 15 secondi anche se sul mercato è presente ma lui l'avete dopo 15 secondi perché il suo betfair quindi la sua piattaforma sua schermata viene viene aggiornata dopo 15 secondi quindi questa va sempre settata uno per per comodità e qui questo è solamente una una lucina c'è nel senso che quando la quota cambia si illumina di giallo non so se avete mai notato in live questo succede adesso al momento di questo video non c'è nulla in live quindi non ve lo posso far vedere se vediamo il tennis magari vi posso far vedere se nel tennis c'è a parte che ho già visto che si è dominato qualcosa guardate vedete quindi questo quello che vi dico quando cambiano si illuminano di giallo poi ovviamente funzionalità di mantenimento delle scommesse in live quando uno che clicca qui e cerca di piazzare una scommessa adesso io ad esempio faccio così per farvi vedere punto questo lo voglio puntare a quota 100 così non mi si abbina quando faccio così ovviamente adesso siamo in live però fatti finta che siamo fuori vedete che esce questa cosa tieni se quella cosa non è fleggata non esce fuori poi conferma scommessa io l'ho tolta perché è la doppia devi cliccare due volte quindi è lenta e la puntata è predefinita per chi la vuole ogni volta che ad esempio punte adesso ve lo fleggo questo è impostato ecco abbiamo preso proprio il mercato che è finito andiamo su un'altra partita puntata predefinita ad esempio 20 ma se ne mettiamo 1000 ad esempio quando io clicco qui vedete mi riporta già in automatico la cifra per comodità se uno fa delle bettate o delle o delle trattate sempre a stake fisso e può essere può essere utile a me non interessa perché comunque ovviamente faccio interesse composto e 3d dinamico quindi le mie le mie giocate sono sempre differenti poi andiamo nella parte cash out quindi mostra no sulla schermata questo il conferma cash out sarebbe come il conferma scommessa quindi quando si clicca conferma scommessa cioè quando si clicca scommetti qua devi dare un'altra conferma quando si clicca cash out devi dare un'altra conferma quindi per me è solo una rottura e una perdita di tempo perché se clicco che devo far cash out poche volte perché io lo faccio in manuale io faccio punte banca quando mi capita cioè non voglio star lì poi riconfermare di nuovo se lo faccio è perché lo devo fare l'interfaccia qui è solamente una grafica quindi visualizza la pagina sport se qualcuno interessa quindi dove ci sono le scommesse per le proprie poi le corse programmi in corsa l'informazione sul programma corsa penso sia nei cavalli questo non ho mai non ho mai neanche cliccata impostazioni rapide sarebbero quelle lì ok vedete quelle sotto colori alternativi quindi da giallo diventa blu e altri mercati si inseriscono i mercati qua sotto per chi vuole avere oltre all'esito finale sul calcio è più carino diciamo perché vedete sotto vedete anche altri mercati oltre all'esito finale l'altro è visualizza live streaming quindi qua quando c'è la partita in live che volete vederla live streaming automatico quindi quando parte subito visualizza moduli giochi sarebbero quelli questi qua che a me non interessano blackjack roulette o quant'altro e stop quindi questo è il menu tra virgolette magico di betfair che molti non conoscevano alcuni sì e che vi possono migliorare ovviamente l'interfaccia dei betfair quello che consiglio ovviamente è su questo mercato di metterlo a un euro perché sennò vi perdete molte vuote e anche questo l'aggiornamento a un secondo questo è tutto dal vostro bello biondo alto con gli occhi azzurri Filippo Accorinti ci vediamo al prossimo video ciao ciao